Ed ecco il co-working di Campobasso. Le persone lavorano, ognuna ha la sua stanza. Questa è una di loro, con postazione singola, altrimenti ci sono uffici destinati a lavori in gruppo. C'è chi ha preferito portarsi il computer e approfittare di una postazione mobile. Ecco qui altre persone al lavoro. E' una sala destinata alle relazioni per un pubblico più numeroso. E' appena terminata una riunione. Uno spazio per rifocillarsi, tavoli, spazi e tanta voglia di creare e di lavorare. Buon lavoro!